Una settimana di lavoro per gettare le basi del futuro. La nuova proprietà della Lucchese ha iniziato a programmare la stagione 2018-2019 con Lucchesi, che dovrà necessariamente ripartire almeno da una base. In questo senso il profilo di Jacopo Fanucchi, fantasista lucchese che più volte ha fatto capire che finirebbe volentieri la carriera in rosso-nero, potrebbe essere confermato, al di là delle effettive necessità di colui che sarà il nuovo allenatore. Le prospettive mi auguro siano quelle di rimanere. Io ho sempre espresso la mia volontà che è quella di terminare la mia carriera a Lucca e da lucchese ci tengo in particolar modo. Vediamo se avrò la possibilità di parlare a breve con la società e vediamo. Oltre alla squadra la lucchese deve comunque definire anche il nuovo assetto societario attraverso la convocazione dell'assemblea e la nomina dell'amministratore.